Ciao ragazzi e ragazzi e benvenuti a vedere, sono Marisa e insieme siamo Marisa e Bella Kids Oggi facciamo un video e vi diamo un indizio prima di svelare Aspetta, non prenderlo ancora Allora, c'entra Chiara Ferragni Una cosa che abbiamo fatto anche l'anno scorso Questo è anche un indizio grande C'entra Chiara Ferragni, c'entrano le uova di Chiara Ferragni Se facciamo un mix sarebbero Oggi abbiamo l'uovo di Pasqua di Chiara Ferragni Eccolo qua, tutto nuovo L'avevamo aperto pure l'anno scorso e l'abbiamo ricomprato Guardate, queste sono le cose E ci saranno forse diverse cose Di Chiara Ferragni Questi qua, quando siamo andati a prendere l'uovo, questi due qua, li avevo comprati Sono a righe A righe anche questi A righe sono Tutte le righe sono Questo l'avete già visto, penso E questo è anche la riga Di chi sono questi? I miei Perché Aurala non usa le righe Io sì E quindi Spostiamo queste cose E apriamo l'uovo Aspetta Se non avete visto il video in cui avremmo aperto l'uovo dei Macotrutea Allora te lo vedete dopo questo video Ne apriremo tanti Come avevamo detto l'altra volta Diteci sotto nei commenti Dei uovi che volete che apriamo Intanto Apro Un po' sottino Apriamo tutto come Le dita che è qua Questo è fuori Così con le stelle negli occhi Eh sì Così Con i occhi Le stelle Benissime L'anno scorso Abbiamo trovato il memory In cui dopo ci giocheremo E quest'anno vedremo cosa abbiamo preso Cosa ci sarà dentro Beh Il regalo sarà il mio No Sì Ho sentito aiuto Ce l'ha fatto Yeee Yeee E' vero Ah Oh Eccolo qua Aspetta Ed è sempre l'uovo Qua L'uovo è intero Guardate Intero Allora Wow Aspetta Il pesco E' gigantesco Questo Non è l'uovo Eh Si manca l'uovo Stavolta Abbiamo Queste due Qua E lo romperemo Però questo Lo mettiamo così Meglio Questo Lo togliamo Guarda No Ho un po' rotto Vabbè Più forte Io vado con questa Così Guarda Ci vuole un'ora Così Facciamo una cosa Wow Cosa sono Allora Questo Lo mettiamo dopo E' tutto intero Quindi Lo rompiamo E Questo Voglio romperlo io Questo Voglio romperlo io Questo Allora Abbiamo la sorpresa Che fosse un sticker Forse Guardate Ho visto pure un video In cui diceva cos'era Quindi io posso Assaggiare Allora Questo E abbiamo Sono dei tatuaggi Questi sono per le unghie E dei tatuaggi Il tatuaggio Il tatuaggio Lo voglio io No Guardate Questo E' un Sox Boss Bait E questo E queste Sono le stelline E l'acchio No Questa Lo voglio io La farò io E queste Le unghie Perché Questo E' Mie Non tutto Una Questi non sono pronti Per le unghie Ma si possono mettere Anche Sui fogli Guardate Lo sono messo Sui fogli Che Ok E l'occhio Ok Ho tre occhi No Però voglio fare Prima una cosa Vuoi essere Di cioccolare Oddio Buono 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 Questo E' Cioccolato Di dolci Preziosi Ed è Al latte Buono Buono Ragazzi Cosa Trovate Nuovo In noi Guardate Bene La nostra Faccia Guardate Abbiamo fatto Il piercing Il piercing Azzurro Sì No ragazzi Scricciamo Sono questi Sono troppo piccole Per farlo Eh Infatti E poi Non farei Un piercing Anche io Mai Visto che Questi L'abbiamo Già provati Che ne dici Di provare I tatuaggi Proviamo Allora Prendiamo Una forbice Eh sì E tagliamo Qua Guardate Qua sono Di segni Che possiamo Anche Ritagliare Così Così Vuoi fare L'occhio La stella La stella È quello Che volevo fare Io Allora Io faccio L'occhio Ok Con ste mini Forbici Eh sì Mini 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 Vieni Ok Apriamo Così Io me lo voglio Fare qua Così Dove Qua Io lo faccio Qua Beh Io Qua Io qua Qua Sopra Così Si Le Sì Le Andiamo Sì Andiamo A bagnarle E vi mostriamo Il risultato Ok Li abbiamo Bagnati Premiamo Un pochino E adesso Lo togliamo Sono venuti Guardate Guardate L'occhio Di Chiara E guardate Il mio Una stellina L'occhio Adesso Dritto Che ne dici Che ne facciamo Un'altra Allora Stavolta Io faccio L'occhio E io faccio La stella Ok Questa È forse Troppo grande Quindi Non lo faccio Lo facciamo Un altro giorno Trovo Questo Mi da Bastidio Aspetta Ti Marisa Per casa Hai mandato Una cosa No Sì No Ti ho visto Quando Adesso Apri la bocca Ah Prima C'è una velvita Ho visto Adesso Tappi la qua Perché è troppo piccolo Il polpice L'abbiamo fatta Adesso Lo togliamo Ecco qua Che bello A me è uscito Molto bene Sono uscite Da me Anche a me Guardate Lo giro così Dritto L'ho fatto vicino Io Non proprio Però Io preferisco La stella Tè L'occhio C'è Molto Il contrario E questo Vedete Finisce qua Ma prima Mettete Like Iscrivete Al canale Attivate La campanellina E mi raccomando Non male La stanza Cioccolata Ma se no Mi fa male La pancia Ciao Ci vediamo Un prossimo video Ciao